Il ristoro, un attimo, in misetta qui davanti, in misetta per cortesia davanti al palco. Abbiamo i migliori in misetta della Val Treppia e di tutti i monti e di tutto il circondario della nostra montagna, Val Staffora e Val Treppia, Val Staffora e Val Treppia, per cortesia. Ecco, vorremmo... Andiamo parli in filione! Al prossimo episodio Al prossimo episodio